A novembre in calo i prestiti alle imprese, mentre salgono i mutui alle famiglie. Secondo quanto rende noto l'associazione bancaria italiana, per i prestiti alle imprese si è registrata una riduzione dell'1,9% su base annua. Si conferma invece la crescita del mercato dei mutui, con un più 2,5% su base annua. Dai dati al 31 dicembre 2019 emerge che nel complesso i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati dello 0,3% rispetto ad un anno prima. A dicembre i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento si attestano sui minimi storici. Una crescita dell'utilità sostenibile per migliorare la solidità patrimoniale, garantendo al contempo una consistente distribuzione dei dividendi. È questo il principale obiettivo del piano industriale di Banca IFIS per il triennio 2020-2022, presentato agli investitori all'Excelsior Hotel Gallia di Milano. L'amministratore delegato Luciano Colombini, che ha assunto l'incarico nell'aprile 2019, ha illustrato le linee guida dell'ambizioso piano, che punta a una crescita dell'utile sostenibile a 147 milioni nel 2022. Sono inoltre previsti investimenti per 60 milioni e 190 nuove assunzioni. I ricavi sono attesi in crescita sia nella divisione dei non-performing loans, sia nella divisione commercial and corporate banking. A ciò si aggiunge la netta riduzione nei prossimi anni del contributo della componente straordinaria a favore del consolidamento delle aree di business più profittevoli, come spiega lo stesso Colombini. Sostituire nel tempo dei ricavi di tipo veramente contabile, che sono il PPA, con un miglioramento dell'income, da business e un contenimento dei costi. Tra gli obiettivi anche quello di valorizzare il brand della banca per renderlo più noto. è un'attività che riteniamo necessaria perché il brand di Banca IFIS è sottostimato rispetto alle potenzialità. La scogliera, la holding della famiglia Furstenberg, che controlla Banca IFIS, non intende cedere la propria partecipazione, assicurato intanto il vicepresidente Ernesto Furstenberg-Fassio, che ha indicato quello nell'istituto come il miglior investimento possibile. 77 tonnellate di cibo pari a 154.000 pasti, 21 organizzazioni non profit coinvolte per un valore economico complessivo che tocca i 308.000 euro. Sono i numeri a testimoniare il grande successo del Lab Antispreco Alimentare di Via Borsieri a Milano a un anno dalla sua nascita. Un progetto che nasce grazie alla collaborazione tra il Comune, Assolombarda, Politecnico, Banco Alimentare e Fondazione Cariplo. Sì, diciamo che questa è la prima verifica su un progetto importante sulla riduzione degli sprechi e la possibilità di far sì che l'eccedenza alimentare delle imprese siano sulle tavole di persone che ne hanno bisogno. 80 tonnellate di cibo recuperato in pochi mesi, che è stato ridistribuito a ben 1300 nuclei di familiare. Penso che questo, basti, per dire come questa iniziativa, questo progetto abbia avuto veramente un forte impatto e un forte successo anche a livello sociale e anche di sostenibilità. Gli sprechi alimentari hanno anche un forte impatto oltre che etico anche economico. Basti pensare che vale l'1% del PIL italiano, vuol dire 15 miliardi di euro. Sono 11 i supermercati e 5 le mesi aziendali che nel quartiere Isola hanno raccolto le eccedenze per ridistribuirle su piccola scala a 21 organizzazioni non profit. Ma non si guarda solo al passato. Il futuro, infatti, prevede l'apertura di un secondo hub già nel 2020 in via Bassini all'interno del municipio 3. Siamo riusciti a costruire un modello replicabile in altre realtà di Milano. Ecco quindi che oggi non solo presentiamo i risultati ma lanciamo l'apertura del nuovo hub nel municipio 3 con l'intenzione poi di coprire l'intera città di Milano. Oggi diamo l'avvio anche al secondo hub, quello del municipio 3. Stiamo consolidandone altri due. Io conto con la fine del mandato di poter onorare l'impegno in tutti e nuovi municipi. Grazie a tutti.